Oggi abbiamo fatto la terza tappa del workshop regionale, siamo venuti a Ferrano, abbiamo incontrato i consiglieri comunali, gli attivisti, i cittadini, perché i nostri incontri ovviamente sono aperti a tutti. Abbiamo toccato diversi temi, sono venuti ad esempio argomenti locali come quello degli idropoli, però le tematiche sono state tante e come sempre, come negli altri incontri, è stato un momento di arricchimento per tutti. Abbiamo portato ovviamente anche i temi di regione, in questo momento abbiamo parlato anche di concessioni per la ricerca di lavoro al buri, piuttosto che del microcredito regionale, quindi derivato anche dai risparmi che siamo riusciti a ottenere in regione, insomma una serie di argomenti che hanno impatto diretto sui territori e che sui territori hanno interesse da approfondire e credo che sia andata veramente molto meglio. È stata sicuramente una giornata molto interessante, abbiamo trattato temi che riguardavano il territorio locale, la mattina sono stati trattati ad esempio il tema delle trine nazioni, che è un tema molto importante e impattante anche nel nostro territorio. Ci è parlato del microcredito che adesso ha preso piede anche a livello regionale, mentre nel promodizio sono stati trattati i temi proposti dai cittadini. Anche oggi abbiamo raccontato cosa stiamo facendo in regione, cosa abbiamo fatto in regione, ci siamo scambiati idee, sono arrivati particolari interessi su temi come il gioco d'azzardo, con i limus sull'idrovore, da qui raccogliamo tanti spunti e ritorniamo in regione per portarli avanti. Grazie a tutti, ciao!